Simone, è inutile sottolineare l'importanza di questi tre punti, siamo ormai vicini al termine della stagione e chiaramente ogni gara è una battaglia e questa lo è stata per tanti motivi, però Lentella ci ha messo la testa e ci ha messo il cuore anche nel momento in cui era difficile. Sì, erano veramente tre punti fondamentali per il nostro obiettivo e per il nostro cammino, anche perché le partite cominciano sempre a essere meno, adesso ne mancano solo tre e una, finalmente quella più importante, sta arrivando e riguardo oggi ci abbiamo messo veramente tutto, quando è stato il momento di attaccare attaccavamo, quando è stato il momento di soffrire perché dall'altra parte c'era un'ottima squadra che faceva un bel gioco abbiamo sofferto e siamo riusciti a reagire quando abbiamo preso gol per portare a casa questa vittoria che per noi era troppo fondamentale. Dicevi tu prima ovviamente dell'importanza della gara di martedì contro il Piacenza, però la vittoria di questa sera farà sì che Lentella avrà il destino nelle proprie mani, chiaramente senza fare calcoli, però questo è importante nell'economia della preparazione e della sfida stessa. Noi abbiamo sempre avuto il destino nelle nostre mani, in tutte le partite, in tutti i recuperi che sono stati fatti, oggi avevamo il destino nelle nostre mani perché comunque all'inizio delle partite eravamo sempre primi in classifica e quindi tutto dipendeva da noi e noi oggi sapevamo che era veramente fondamentale continuare il nostro percorso perché sappiamo che comunque dall'altra parte c'è una squadra che ci sta dietro, che non molla e che sta inseguendo il nostro stesso obiettivo, ma come abbiamo detto tutto dipende da noi, noi dobbiamo guardare quello che facciamo noi e non quello che faceva il Piacenza, quindi era fondamentale pensare alla partita di oggi e vincere la partita di oggi. Questo è un bel gruppo, ci sono tanti giocatori che potrebbero fare i titolari in tantissime squadre, nelle ultime sfide non è ripartito il titolare, chiaramente questa sera hai dato una risposta molto importante anche sotto questo profilo. Sì, è il gioco del calcio, quando capita di trovarsi in delle rose, in delle squadre, in dei gruppi con tanti giocatori forti ci può stare e riposare, ci può stare una scelta del mister, il nostro compito, mio ma come lo è stato anche per altri ragazzi, è quello di farsi trovare pronto poi nel momento in cui si viene chiamato in causa. Oggi era il mio momento, come lo è stato per altri ragazzi nel corso della stagione, ma secondo me è questo che fa la forza di un vero gruppo.